Chiamo il giornalista Franco Mariani, l'assessore regionale al diritto alla salute Enrico Rossi per parlare di argomenti e di attualità in tema di sanità e ce n'è uno di estrema attualità e lo denuncia Franco Mariani. Sì, assessore, è ritornato il gran freddo, le temperature si sono abbassate e quindi siamo in un periodo di preallarme per l'influenza. Dell'influenza se ne è parlato talmente tanto in questa estate, quali sono i progetti che la regione toscana ha messo in atto per prevenire l'influenza? Sì, si tratta appunto di una normale influenza, se in sanità ci fossero cose banali dovremmo dire di una banale influenza, poi purtroppo anche l'influenza in qualche caso può avere delle complicazioni. Tuttavia i dati che abbiamo sono che questa influenza nuova, questa pandemia ha un impatto sulla salute meno aggressivo dell'influenza stagionale, quindi non è da temere. Noi abbiamo da fare tre tipi di vaccinazione, uno contro l'influenza stagionale sarà quella che partirà per prima, poi una prima ondata di vaccinazioni che partirà a fine ottobre, primi di novembre sulla influenza pandemica e riguarderà 500 mila cittadini con un richiamo e quindi saranno un milione di buchi. E poi a gennaio un altro ciclo di una seconda ondata, di un altro milione di interventi, quindi due milioni di interventi su cittadini della Toscana. È un grande sforzo che noi abbiamo concordato che venga fatto sul territorio, dai medici di famiglia e dai pediatri, perché trattandosi di un'influenza è sul territorio che deve essere curata, anzi io mi sono prefisso di ripetere sempre lo stesso slogan, è un'influenza se ti prende chiama il tuo medico di famiglia, se è un bambino chiama il tuo pediatra, è inutile andare al pronto soccorso, ingolfare il pronto soccorso, è inutile ricoverarsi agli ospedali se non ci sono complicazioni, sarà il medico di famiglia o il pediatra eventualmente a decidere se ci sono complicazioni di chiedere il ricovero in ospedale. Il pediatra e i medici di famiglia con noi stanno anche discutendo su come potenziare la continuità assistenziale del sabato e la domenica, noi la chiediamo soprattutto nei picchi, in quel periodo in cui gli ammalati di influenza saranno molti e quindi soprattutto il sabato e la domenica avremo bisogno di avere una presenza sul territorio più forte. In ogni caso noi vogliamo anche provare a vedere se questa influenza viene utilizzata un po' come una grande esercitazione del servizio sanitario regionale per essere più flessibile e per dare risposte ai cittadini, quindi stiamo attrezzandoci per potenziare il pronto soccorso con una linea specifica dedicata agli influenzati che verranno e poi abbiamo 14 mila posti letto, ci stiamo attrezzando per avere un certo numero di posti letto aggiuntivi, nel qual caso noi pensiamo che non ce ne sia mai bisogno, ma se ce ne fosse bisogno noi richiameremmo, dopo aver verificato se non ci sono più forza lavoro disponibile, già preparata e già sperimentata, richiameremmo in servizio anche i medici e infermieri pensionati. Poi abbiamo raddoppiato l'acquisto dei ventilatori artificiali, ne abbiamo 200 in funzione, ne abbiamo comprati altri 200 perché così siamo al sicuro per gli interventi più acuti e sono servizi e sono strutture che servono. Non servirà a nulla tutto questo perché la regola fondamentale dell'influenza è che si riprende, chiamo il tuo medico di famiglia. Bene, c'è un altro argomento, un altro argomento di attualità, la iniziativa della regione per una lista unica nella chirurgia e qualche polemica che ha sollevato, di cosa si tratta? Si tratta innanzitutto di affermare un principio di eguaglianza senza il quale il servizio sanitario pubblico poco si giustifica. Se una persona va da un medico, se la visita specialistica gli viene proposta anche a pagamento è un fenomeno da combattere, da tenere contenuto, però è pur sempre un aspetto che impatta sulle tasche dei cittadini, ma meno clamoroso, meno evidente. Più evidente è tale da essere anche più odioso e quando il cittadino si trova di fronte alla scelta a pagamento l'intervento chirurgico, te lo faccio in una settimana o in un mese, altrimenti deve ritornare tra mesi o tra un anno. Allora noi abbiamo detto, si opera in base alla gravità, indipendentemente dal fatto di pagare o non pagare, la lista d'attesa sia fatta tenendo conto della gravità delle situazioni. Naturalmente chi paga avrà diritto di poter andare a farsi operare dal professor Tizio, dal dottor Caio a seconda della scelta che farà, questo è il senso della libera professione. Abbiamo messo anche più risorse per avere più ore di sala operatoria, stiamo ripulendo anche tutte le liste chirurgiche che vengono fuori fenomeni strani, per cui c'è un 20% di liste d'attesa in chirurgia che può essere ridotto ripulendolo, richiamando a casa i cittadini, chiedendo se effettivamente hanno o no bisogno dell'operazione e poi stiamo attrezzando degli uffici per formare queste liste. io penso che noi otterremo davvero un ottimo risultato e anche con i medici ci stiamo capendo, noi non vogliamo togliere la libera professione, anzi è un diritto e lo vogliamo riconoscere per il cittadino come per il medico, però vogliamo che questa alternativa davvero odiosa e imbarazzante a pagamento, l'intervento viene fatto prima, altrimenti devi ricorrere a una stessa più lunga. Anche perché si sta parlando di strutture pubbliche. Si sta parlando di strutture pubbliche e soprattutto si sta parlando di interventi delicati, anche costosi, ma interventi chirurgici che anche dal punto di vista psicologico hanno una valenza importante. Noi abbiamo detto che dobbiamo raggiungere l'obiettivo, entro un mese gli interventi oncologici, entro tre mesi tutti gli altri interventi chirurgici, sia che si paghi sia che non si paghi. E dobbiamo dire che i cittadini hanno apprezzato molto questo intervento della regione toscana dell'assessore Rossi.